Allora con il sindaco di Lusiana e Conco Antonella Corradin, signora sindaco siamo qui a Malga Campo Rossignolo che nel vostro territorio diciamo ma che cosa rappresentano queste malghe, anche questa malga che è diciamo biologica addirittura sul vostro territorio, a cosa servono diciamo in poche parole? Le malghe sono importantissime nel territorio dell'altopiano perché servono proprio a salvaguardare e a mantenere il territorio i malghesi fanno un lavoro eccezionale non soltanto con il pascolamento ma poi anche con l'eliminazione delle erbe infestanti eccetera e si evita così che i terreni vengano abbandonati, diventino incolti con tutte le ripercussioni di tipo idrogeologico anche che questa cosa avrebbe per cui anche il mantenimento dei pascoli aperti, il bosco al suo posto e che non invada tutti i pascoli e nello stesso tempo anche una ricchezza dal punto di vista turistico e proprio anche agroalimentare vediamo là proprio tutti questi prodotti che sono prodotti DOP e anche nello stesso tempo proprio gli agriturismi e quindi diventa una ricchezza per tutto il territorio e per tutti i nostri paesi per cui noi ci teniamo davvero molto le nostre malghe lei consideri che l'altopiano di Asiago, Sette Comuni è l'unica realtà in Italia in cui ci sono quasi un'ottantina di malghe di proprietà pubblica non sono malghe private, sono di proprietà pubblica e che vengono date in gestione, in concessione ai privati che appunto le gestiscono e quindi è davvero un patrimonio ricchissimo ed importantissimo e naturalmente chiediamo ai nostri ascoltatori di fare un salto in malga come ha detto sono più di un'ottantina, poi ci sono anche quelle private ma soprattutto diciamo che assaggiare il burro o il formaggio qui in malga è un'altra cosa assolutamente senza nulla togliere al formaggio asiago, quello marchiato Sì è un'altra cosa quello prodotto in malga perché il bestiame mangia erba di un altro tipo che non viene concimata, che è assolutamente naturale e anche a volte i metodi di lavorazione come quello utilizzato dalla famiglia Nicolin in questa malga fanno la differenza certamente ci sono anche i nostri caseifici che utilizzano il latte dei produttori stanziali diciamo e che danno prodotti ottimi ma quelli della malga sono eccezionali così come noi cerchiamo di mantenere le antiche produzioni non lo so allusiana il pomi e i peri e facciamo anche una bella manifestazione che si chiama pomo pero che vengono coltivati non come produzione industriale ma sono le antiche produzioni che cerchiamo di salvaguardare